Presidente, un passo alla volta e diciamo la strada verso Firenze continua a essere sempre più vicina. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato davvero a squadra, siamo andati un attimino in difficoltà in inizio del secondo tempo perché è il gol subito, però credo al di là di questo il Montegiorgio non ha fatto niente per poterci impensierire. Quindi credo che siamo vicini a raggiungere innanzitutto l'obiettivo della Serie D e ci auguriamo di raggiungerlo domenica. Poi a Serie D acquisita credo che siamo anche più sgombri di mente per poter mettere la ciliegina sulla torta e lotteremo fino alla fine per poterla raggiungere. Sabato un po' di turnovere in vista di questa partita, domenica c'era l'Arcianese, una partita difficile con tre punti, la Serie D è matematica, altrimenti bisognerà sentire l'altro sconto diretto per la Santa Castelnuovo, come finirà la partita? Sul discorso di turnovere mi sembra una cosa normale che dopo 82 partite di quei tre campionati che la squadra non perde, abbiamo l'impegno di Coppa, abbiamo l'impegno del campionato, credo che a noi se si guarda lo scorcio manca tre punti per poter raggiungere la Serie D. Quindi oggi era molto importante per la società, per la squadra, per la tifosseria e per la città poter raggiungere questo obiettivo e l'obiettivo è stato raggiunto, quindi non so a cosa si voglia imputare a questi ragazzi perché non mi è piaciuto il comportamento di alcuni domenica dopo la partita, però credo che tutto debba passare e siamo qui oggi per festeggiare e per raggiungere la Serie D. Hai rammentato proprio le 82 partite utili senza mai perdere, quindi rimane anche questo piccolo obiettivo di finire il campionato senza alcuna sconfitta. È indubbio che a questo punto gli obiettivi con cui giochiamo sono tre, quello di non perdere per il terzo campionato consecutivo, quello di raggiungere la Serie D e quello di vincere la Coppa, quindi io credo che nella gestione, nell'organigramma di 22-23 giocatori quanti siamo, tutti insieme stiamo portando avanti questo obiettivo.